San Bernardino Realino Un giorno gli apparve la beata vergine che gli forgeva Gesù Bambino. Bernardino lo prese in braccia e la sua vita cambiò. Indossò l'abito religioso nella compagnia di Gesù e nel 1567, divenuto sacerdote, fu nominato direttore spirituale e maestro dei novizi. Morì a Lecce il 2 luglio 1616, acclamato patrono della città prima di ispirare. Fu elevato agli onori degli altari nel 1895 da Leone XIII. Grazie a tutti.